Buongiorno e bentornati in AutoSmile. Questa Opel Corsa, questa nuova Opel Corsa per neopatentati. Nuova significa ancora da immatricolare, perciò non è né chilometri zero né aziendale, ma è nuova. Questa nuova Opel Corsa, un 1.275 cavalli, un 55 kilowatt, ecco perché i neopatentati possono usarla. Molto bella di questa tonalità, Carbon Black, che è il nero metallizzato. E' qua disponibile, che vi aspetta per una prova su strada, qui nella nostra sede di Secunago. Comunque ricordatevi sempre di contattarci prima di venire a visionarla e provarla, così sarete certi che sia ancora disponibile. I fari LED, sensori anteriori e posteriori, perché la vettura è dotata anche di un pacchetto extra. Che è il Tech Pack Edition, che comprende i sensori anteriori, la retrocamera di parcheggio, il blind spot monitor, perciò vi avvisa quando di fianco c'è una vettura. Ho percorsa un po' la storia dei segmenti B delle vetture utilitarie. Negli anni ne hanno vendute migliaia. E migliaia di utenti ne sono stati sempre soddisfatti. Bello il bagagliaio, ben fatto, molto spazioso, sempre tenendo conto delle dimensioni. Tutto rivestito in mochette, con i sedili posteriori sdoppiabili. Da un'opera percorsa, ovvio che vi trovate il classicismo. Tre persone in statura anche medio alta sanno comode, perché è tanto spazio sul diavonetto dei sedili posteriori. Vetri elettrici posteriori. Questo è il pannello porta anteriore, lato passeggero. Dico classicismo però percorsa perché è una vettura tedesca e già lì sappiamo che qualità ce n'è in abbondanza, ma le linee sono proprio, è il bello di queste vetture, molto classiche. Linee anche della plancia, classiche. Sulla qualità non si discute. Gli specchietti, grazie al Tech Pack, si chiudono anche elettricamente, oltre che essere elettrici sbrinabili. Scusateci il cellophane, ma appunto è una vettura nuova. Come dicevo prima, su Opel non si può discutere sulla qualità. Perché è una vettura di una qualità eccellente, i clienti sono molto contenti e questa è un'ottima alternativa alle solite classiche altre auto per neopatentati. Molto bello il volante con i comandi delle cruise control, imitatori di velocità, del viva voce bluetooth e tutti i comandi della radio. Strumentazione digitale che adesso andremo a accenderla. E poi il sistema infotainment centrale, col climatizzatore sotto. Sistema multimediale eccellente. Tutto a touchscreen, con via voce bluetooth. Qui ci sono tutte le configurazioni per la vettura. Android Auto, Apple CarPlay ovviamente è dotata la vettura. E qui appunto tutta la strumentazione digitale. Tergi cristalli in automatico perché hanno il sensore della pioggia. Infatti lo specchietto è fotocromatico perciò soscura automaticamente e qua c'è il sensore pioggia. Anche i fari LED sono all'attivazione automatica. Bella vettura, molto completa per non patentati e non, perché questa non disdegna nemmeno bei lunghi viaggi. Pesa 12V, USB. Molto importante ovviamente è il start and stop e il lane assistant vi mantiene la vettura nel limite del possibile. Vi avverte quando uscite dalla carreggiata. Cambia 5 rapporti. E poi il motore è questo splendido 1.275 cavalli, 55 kilowatt. Molto parsimonioso, molto economico come assicurazione da assicurare e nei consumi. Ovviamente rispetto alla maggior parte della concorrenza. Comunque noi vi aspettiamo per venire a provarlo su strada, contattateci. Noi e questa Opel Corsa 1.275 cavalli, 5 porte, vi aspettiamo qui nella nostra serie di Secognago. La vettura è anche adatta all'utilizzo per i neopatentati. Vi aspettiamo, molto bella di questa tonalità nera, con accessorio col tech pack, ha molti accessori extra. Comunque poi ci sono anche altre colorazioni e altre possibilità di tonalità. Vi aspettiamo, c'è anche questa vettura, la possibilità di acquisto con finanziamenti vantaggiosi. Noi aderiamo a tutte le promozioni ufficiali della fabbrica Opel. E per di più abbiamo anche la possibilità di fare dei finanziamenti molto personalizzati. Vi aspettiamo. Grazie. 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 Grazie.